Domenica 14 ottobre si celebra la 68esima giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro. Purtroppo i numeri sono ancora molto alti nella provincia di Piacenza e i morti sono cresciuti passando da 3 nel 2017 a 5 nei primi sette mesi del 2018. Ad allarmare sono soprattutto i dati che riguardano i giovani. L'anno scorso in Italia il 26,7% degli infortuni ha interessato gli under 35. Per questo motivo l'Anmi di Piacenza porta avanti le proprie campagne di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole. L'iniziativa che è una collaborazione con l'ISI Marconi già da diversi anni dove noi portiamo la nostra testimonianza, siamo in due o tre invali del lavoro che portano la testimonianza delle loro disavventure, quindi dei problemi che sono derivati poi anche all'interno della famiglia non solo a livello personale. Un altro progetto invece insieme principalmente con la LILTA, con l'editor Pugliese, sul quarto circolo scolastico della scuola primaria. Lì c'è una formazione agli insegnanti e poi successivamente una verifica dei risultati sui bambini. Noi ci prepareremo proprio in questi giorni mandando una comunicazione a tutte le scuole del territorio, dando le nostre disponibilità ad essere presenti e parlare di sicurezza ai giovani, dai bambini a quelli di età più scuole superiori. Quello degli infortuni sul lavoro è un problema che viene da lontano, come scriveva già Angelo Ferracuti. In Italia attualmente ci sono 800.000 invalidi del lavoro, 130.000 travedo e orfani. Nel ventennio 1946 al 1966 si sono verificati 22.860.964 casi di infortuni. Gli invalidi del lavoro poi si trovano negli elenchi lunghissimi di disoccupazione. Grazie. Grazie.